Oh, cavolo, cavolo, arriva qualcuno. Vediamo chi è. Cosa è stato? Jess, ehi! Jessica, siamo qui! Ah, vi piace farlo in posti strani, per caso? Ci siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore. Oh mio Dio, me la sono vista brutta. Altri dieci minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Oh, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Ehi, Chris! Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come i miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti. Sembra che qualcuna abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoglasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Da qua, imbecille. Felicemente, imbecille. Sei proprio un idiota. Forse sarebbe meglio se gli impiccioni imparassero a... farsi i fatti loro. Eh, sì, in un certo senso hai ragione. Avanti, Jess. A noi puoi dirlo. Sappiamo mantenere un segreto. No. Tanto lo scoprirete da soli. Va bene, va bene. Vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi, Mike? Cosa? Eh, ma no. Dicevo... Chiunque. Ah. Sam? Visto che panorama... Voglio dire... Cavolo! A volte mi scordo... Di... Fermarmi e ammirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funibita? Non credo che sarebbe stata così pittorissima. E non c'è mai un facchino quando serve? Ma i brividi? Ci siamo quasi. No, voglio dire... Mi sento a disagio. Oh. Capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti qua su. Di sicuro non sarà una normale scappagnata. Non voglio dire... Cosa pensi che... Gesù! Ragazzi... Michael! Davvero? Avreste dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugni. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi. Siamo amici o cosa? Niente violenza. Dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta. È paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, ehm? Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Michael, lasciamo perdere. Altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana. E lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... Eh, no. Meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Bene. A dopo. Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada. I bagagli? Sì. Tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante, Matt. Ti prego. Emma, sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero. E perché mai? Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo la roba qui e verrò con te. Non ce la roba nessuno. Matt, mi prendi in giro. Non puoi lasciarmi sola neanche per cinque minuti. Non ti fidi di me. Ma non è per quello. Perché non mi ascolti? Devi sempre controbattere su tutto quello che dico. Scusami. Emma, volevo solo essere gentile. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi, ok? Ok. Va bene. Come vuoi. Grazie. Ci vediamo su dopo che ho trovato Sam. A proposito. A proposito. A proposito. Qualcuno sta diventando amichevole Un po' troppo amichevole, forse Non si dice ogni lasciata è persa? Scusami, Ash, non ti volevo spaventare Mamma mia, Matt Volevo spaventarti, ma spaventarti poco, non davvero Oh mio Dio Mi dispiace, Ash, davvero Ok, sto bene, sto bene Che guardavi? Qualcosa di interessante? Fammi guardare Certo, fai pure Vedrai, che bellezza Bene Figlio di puttana Sul serio, Emily? Ma che cazzo? Dai, non è come sembra Non è come sembra? Forse Con Em non è mai come sembra? Mai? Non lo so, io Maldizione Matt Dimmi che non l'hai fatto davvero Tieni le mani bene in vista Ti abbiamo circondato Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle Se non ti arrendersi alla rude guardia militare Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Come? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Ehi Mike! Ok, mi hai fregato! Va bene, ok! No, tesoro! Ancora! Finché non cadrai! Ecco! Finito! Tutto fatto! Allora sono caduta? Ehm... non direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglia o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Ok, è un titolo un po' ambiguo. Mia signora. Oh, ok. Ok, ti spetta un premio. E sarebbe? Beh, una cosa mi viene in mente. Sì. Però dovrei aspettare, più tardi. Saliamo alla baita. Già, anche se qui è così bello. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare qui per sempre, a patto che ci sia anche tu, per dei baci infiniti. Soltanto baci? Beh, più o meno. Beh, mi sa che finiremmo per morire congelati, fra quel più e quel meno. Già. Già. Soltanto baci.